Ancora una volta un'edizione straordinaria della corsa di San Martino, corsa internazionale qui a controguerra nel Terramano 4.000 partecipanti, 2.500 alla non competitiva denominata Mangialonga perché i ristori sono tutti mangerecci e 1.500 alla gara competitiva, gara competitiva che tra gli uomini ha visto successi africani mentre tra le donne c'è stata una bella sorpresa. A livello maschile ha vinto Joash Kip-Ruto Koic, Keniano in 45-19 Il secondo è un marocchino, Younes Zituni, 46-09 Terzo ancora marocco, Isham Bufars, 46-24 Quarto Kenya, Erastus Kip-Korir-Circir in 47-16 Al quinto posto Marocco, Yassine Kaburi, 47-28 Poi al sesto posto, ancora Marocco, Youssef Aish, 48-28 Settimo, il primo italiano, Stefano Massimi della Sef Stamura di Ancona, 48-53 All'ottava piazza, Mohamed Lamiri, USA Runner Savezzano, nono posto per Alberico Di Cecco, Vini Fantini, decimo Francesco Raia della Newcastle Bella sorpresa al femminile Non è caduto il record, non è caduto neanche tra gli uomini Ma è straordinario vedere una over 40 decisamente come Marcella Mancini Vincere per la sesta volta qui a controguerra Battendo una concorrenza di valore internazionale Marcella Mancini ha concluso in 56-22 Seconda piazza Kenya Wakaburut Celangat in 56-45 Terza Marocco, aveva già vinto a controguerra Janat Anane, 57-03 Poi quarta piazza per Gloria Cicotelli E quinta piazza per Gloria Lufrano Entrambe runnerschieti